Un pensionato di 70 anni di Gela, invalido civile al 100%, chiede al Comune il rilascio del contrassegno automobilistico per disabili e viene inviato all'ufficio di medicina legale e fiscale dell'azienda sanitaria provinciale, che però si trova al quinto piano di un edificio di via Venezia che ha un ascensore di dimensioni ridotte, inadeguato per l'accesso di una carrozzina e comunque raggiungibile solo dopo aver superato una rampa di 9 gradini. La procedura non prevede per il portatore di handicap alcuna opportunità di ricevere la visita domiciliare. Così l'anziano disabile si è rivolto ad un avvocato, Carmelo D'Angeli, per denunciare l'impossibilità per sé e per gli altri invalidi di beneficiare di un diritto che pur gli appartiene a causa di scelte sbagliate circa il collocamento di un ufficio pubblico deputato alle certificazioni per malattie ed disabili con la palese violazione di tutte le disposizioni normative in materia di barriere architettoniche. Medici e impiegati dell'ufficio dell'Asp dal canto loro, pur non avendone l'obbligo, sono soliti, a richiesta di un accompagnatore dell'assistito, scendere al piano terra, identificare il richiedente, acquisire la certificazione medica di invalidità ed emettere il certificato con la diagnosi prestampata di capacità deambulatoria sensibilmente ridotta necessario al rilascio del permesso della Polizia Municipale. Ma la vicenda rischia di finire ugualmente nell'aula del Tribunale di Gela al quale la famiglia del disabile intende rivolgersi per ottenere giustizia. E all'orizzonte si profila anche un altro esposto alla magistratura. La denuncia è di Paolo Capici dell'Associazione H. Dopo tre mesi di diffide l'Asp di Caltanissetta, continuo ad ignorare le richieste dei genitori che attendono di fare sottoporre a terapia i loro bambini. Parliamo di bambini che vanno da zero a due anni e che stanno rischiando di subire danni enormi e irreversibili proprio per l'inerzia e il disinteresse che l'Asp di Caltanissetta continua a manifestare. Stamattina i due genitori mi hanno dato mandato di agire per via civile, quindi farò molto probabilmente un ricorso X700 e quindi invito anche i miei colleghi, chi abbia di queste occasioni deve trovare questa soluzione che è la soluzione estrema, visto che né a livello politico né a livello amministrativo l'Asp di Caltanissetta continua a fare le gestioni pro-norde e svantaggiando il sud. Sensibilizzo anche la classe politica gelese tutta, senza distinzione di colori, a cominciare dal sindaco e a seguire i consiglieri comunali affinché si ollevano anche a livello regionale questa questione, visto che abbiamo un presidente della regione che è di Gela, ma a quanto pare pensa poco alle necessità dell'utenza molto bisognosa. Mi piace sottolineare che si tratta di bambini che se non vengono trattati tempestivamente rischiano di rimanere gravi per sempre.